Salve a tutti, in questo video parleremo della profezia di Nostradamus riguardante il futuro dell'umanità e il destino del mondo. Nostradamus è sicuramente uno dei più celebri profeti della storia noto per le sue enigmatiche quartine che sembrano proprio prevedere il futuro. Ma prima di proseguire con il video, ti chiediamo un gentile favore, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video. Potrai così aiutarci gratuitamente a divulgare le nostre storie e messaggi dedicati alle riflessioni spirituali e religiose. Grazie di cuore. Come già detto, Nostradamus, è noto per le sue enigmatiche quartine che sembrano prevedere il futuro. Tra queste, ce n'è una che ha sconvolto l'umanità per secoli, la quartina 10 a 72, che recita così. L'anno 1999-7 mesi, dal cielo verrà un grande re di terrore, resuscitare il grande re di Angoleme prima. E dopo Marte regnare per felicità. Il moggio di grano salirà così tanto che l'uomo mangerà il prossimo. Dalle traduzioni dall'antico francese eseguite dagli esperti, sembra che molte indicazioni stiano arrivando a connettersi con gli sviluppi della realtà. Le interpretazioni variano, ma molti credono che questa quartina faccia riferimento all'arrivo dell'anticristo, l'avversario di Dio, portatore di guerra e distruzione sulla Terra. Il grande re del terrore potrebbe essere il capo di una potenza mondiale scatenante un conflitto nucleare, mentre il grande re di Angoleme potrebbe rappresentare un antico sovrano mongolo, forse Gengis Khan, simbolo di violenza e crudeltà. Marte, infine, simboleggerebbe il pianeta rosso e, al contempo, il Dio della guerra, che regnerà secondo la volontà del maligno. Previsione agghiacciante su una possibile catastrofica carestia in qualche parte del mondo così acuta da generare atti di cannibalismo per sopravvivere. E poi ancora, orribile guerra Orjon viene preparata in Occidente, il giorno seguente alla pestilenza avverrà, orribile tanto che né giovane, vecchio o animale ne sopravvivrà. Ciò lascia ad interpretazioni concrete che finita l'era della pandemia Covid, ci si avvicini a un'era catastrofica causata da una terza guerra mondiale nucleare, dove sopravvivere diventerà davvero difficile, e la vita sarà sopraffatta dalla fame, sofferenza e dolore. Ma chi era davvero Nostradamus e da dove derivava la sua abilità di predire il futuro? Nato in Francia, a Saint-Rémy-de-Provence, il 14 dicembre 1531, durante il periodo rinascimentale, Michel de Notre-Dame aveva origini ebree. La sua famiglia aveva una lunga tradizione di medici, ma le sue capacità profetiche sembravano avere radici ancor più antiche. Si narra che il nonno, Pietro de Notre-Dame, medico e astrologo, discendesse dalla tribù ebrea di Issachar, i cui membri erano detentori di segreti cosmologici ed algebrici trasmessi fino a Nostradamus. Persino nella Bibbia si fa riferimento ai discendenti di Issachar e alle loro doti profetiche. Giovanissimo, a soli 16 anni, Michel era già fluente in latino, greco ed ebraico e aveva una solida comprensione dell'astronomia e della medicina. A 17 anni, completò i suoi studi presso l'Università di Avignone e in seguito si perfezionò all'Università di Montpellier, acquisendo prestigio come medico rinomato, conosciuto col nome di Nostradamus. Diverse città, come Bordeaux e Ajan, lo accolsero per curare i malati colpiti dalla peste nera. Durante i suoi viaggi in Europa, ebbe l'occasione di incontrare e stringere amicizia con Paracelso e Agrippa. In un incontro fortuito a Savona, in Italia, avrebbe anche incontrato un giovane monaco, il quale, col tempo, sarebbe diventato Papa Sisto V. Nel 1546, Nostradamus fu richiamato in Provenza, dove la peste aveva colpito nuovamente. Stanco delle incomprensioni familiari e desideroso di una vita meno avventurosa, decise l'anno successivo, di dedicarsi agli studi astronomici, ritirandosi nel suo piccolo osservatorio a Salon de Provence. Fu un uomo di scienza, medico e astrologo per tutta la sua vita, oltre che un filosofo e poeta mirabile, e osservatore attento della politica, cosa che gli attirò talvolta il sospetto dei potenti. Pur essendo ebreo, praticò la religione cattolica e sostenne la riforma di Lutero. Ma quando accadrà questa terribile profezia della fine del mondo? Nostradamus sembra indicare una data precisa, l'anno 1999, sette mesi. Molti hanno pensato che si riferisse a luglio del 1999, ma in realtà, Nostradamus utilizzava il calendario Giuliano, che aveva un ritardo di 10 giorni rispetto al nostro calendario gregoriano. Pertanto, la data corrispondente sarebbe il 17 agosto 1999. In quella giornata, molti aspettavano un evento catastrofico, ma apparentemente nulla di eccezionale accadde. Tuttavia, alcuni saggi osservatori notarono che in quel fatidico giorno, un evento astronomico raro e spettacolare sconvolse l'Europa e l'Asia, un eclissi solare totale, simbolo inquietante dell'oscuramento della luce divina. Ma non solo, poiché anche in Turchia, un paese di cruciale importanza geopolitica, si verificarono diversi terremoti devastanti che portarono alla morte di migliaia di persone e a ingenti danni. La Turchia, con il suo ruolo di ponte tra l'Occidente e l'Oriente, tra il cristianesimo e l'Islam, sembrava essere una tessera fondamentale nell'inscrutabile mosaico di segni premonitori dell'Apocalisse, come predetto da Nostradamus. Ma quali eventi sconvolgenti ci attendono nel disegno della fine del mondo? Diverse interpretazioni collegano la profezia del celebre veggente francese ad altri enigmi biblici, come l'Apocalisse di Giovanni e la profezia di Daniele. Questi enigmatici scritti parlano di una serie di tragici eventi che precederanno il ritorno di Gesù Cristo sulla Terra per giudicare i vivi e i morti e per instaurare il suo regno di pace e giustizia. Tra gli eventi che scuoteranno l'umanità, è prevista l'emersione dell'Anticristo, figura carismatica e potente che ingannerà le nazioni con promesse illusorie di pace e prosperità, ma il cui scopo oscuro sarà annientare la fede cristiana e stabilire un dominio assoluto sul mondo. La temuta guerra mondiale finale, uno scontro apocalittico tra le forze dell'Anticristo e i devoti di Dio, porterà morte e devastazione in scala senza precedenti. Le terribili conseguenze coinvolgeranno persino potenze nucleari, scatenando il loro arsenale atomico e causando una catastrofe ambientale di proporzioni catastrofiche. In un periodo di sette anni noto come la Grande Tribolazione, i cristiani affronteranno persecuzioni e martirio ad opera dell'Anticristo e dei suoi seguaci. Questa fase di prove e sofferenze costringerà i credenti a resistere alla tentazione di rinnegare la loro fede e ad accettare il volere dell'Anticristo, che vorrà il potere di controllare e dominare le persone, condizionarle in ogni decisione vitale e impedire loro libere scelte di esistenza. Tuttavia, nel momento cruciale, Gesù Cristo farà il suo trionfante ritorno dal cielo, circondato dagli angeli e dai santi, per sconfiggere l'Anticristo e i suoi alleati. Questi malvagi saranno gettati nel lago di fuoco, e Satana stesso sarà imprigionato per mille anni. Nel grande giorno del giudizio, il Signore separerà i giusti dai malvagi e distribuirà le giuste ricompense e punizioni. Metterà in atto l'attesa giustizia divina. Una volta completata la sua giusta opera, Gesù Cristo darà vita a un nuovo cielo e a una nuova terra, dove regnerà la pace, l'amore e la felicità eterna. L'apocalittica profezia di Nostradamus sulla fine del mondo affascina e coinvolge profondamente, costringendoci a riflettere sulla nostra responsabilità di scelta tra il bene e il male, tra la vita e la morte, tra l'adorazione di Dio e l'inganno dell'Anticristo. Questo messaggio di speranza e redenzione ci invita a prepararci al giorno del giudizio mediante la preghiera, la penitenza e la carità, ricordandoci che Dio è sovrano della storia e ci offre un piano d'amore per l'intera umanità. Speriamo con fervore nel glorioso ritorno di Gesù Cristo, quando finalmente avremo l'opportunità di contemplare il suo volto e di condividere l'eternità con Lui. Grazie per aver prestato attenzione a questo straordinario messaggio. Se questo video ti ha coinvolto, lascia il tuo apprezzamento con un like, un commento e non dimenticare di iscriverti al nostro canale. Attiva la piccola campanella per non perderti i prossimi contenuti dedicati alla conoscenza e alla riflessione spirituale e religiosa. Grazie di cuore.